Ed eccoci di nuovo qua, abbiamo ospitato prima Marco Follesi in M91 Genova che ci ha parlato del Genova anche di questo fatto estracalcistico che io continuo a ripetere come redazione sportiva di calcio non ci interessa la vita privata di nessun tesserato di alcuna squadra di serie A, B o C che dir si voglia. Ritorniamo a parlare di calcio, naturalmente colui che è l'artefice e il fondatore della rubrica Il Punto sulla Roma, ovvero sia Alberto Fiano. Buon pomeriggio Alberto, ben risentito. Baro Vico mio, buon pomeriggio a te, è sempre un onore e un piacere partecipare alla tua trasmissione, mando un saluto a tutti gli interconnessi in ascolto, grazie davvero. Era tempo che non ci assentivamo in diretta, il punto c'è sempre stato, tra un po' toccherà quota 400 Alberto? Eh già, ieri sera a post Roma Helsinki, la puntata numero 394, chi l'avrebbe mai detto? Eh di fatti, non ce lo saremmo mai immaginato. Oggi invece parliamo dell'antivigilia perché ci sarà domenica le 18 Roma-Atalanta, si giocherà all'Olimpico ma secondo me quando c'è l'Atalanta o Roma o Bergamo i rischi sono sempre quelli. Parto dagli avversari, allora è un'Atalanta che corre di meno ma ragiona di più. E io da buon vecchietto che sono, mentre tu sei un ragazzino e sono vecchietto, fa parte della cronologia umana, temo di più questa Atalanta più ragionatrice che quella che scorribbandava due anni fa che ti faceva o 4-0 o perdeva 4-0. Questa è un'Atalanta più sorniona, più furba, più coperta e secondo me è più pericolosa della compagine che giocava meglio, per carità, in situazione precedente. Però questa tra virgolette mi fa più paura calcistica. Che ne pensi tu? Allora, che ne penso io? Roma-Atalanta, intanto arricchistriamo l'ennesimo sold out, diamo anche onore al pubblico della Roma che non fa mancare un grande entusiasmo, una grande passione ai propri beniamini. Io più che dell'Atalanta avrei paura della Roma. Se vado anche a vedere le provabili formazioni, ok, comunque registro anche delle defezioni importanti in casa a Bergamasca, tipo il bomber Zapata Colombiano che mi piace tanto, l'ex Roma Zappacosta che però sulla economia di gioco, visto che poi Gasperini usa molto gli esterni agrari, è comunque una defezione importante. Gin City, centrale difensivo, quindi sono anche muri e non in perfette condizioni, infatti partirà dalla panchina, quindi sono, come dire, a senso di rilievo per la compagine Bergamasca. è vero, ragiono un po' di più, però a mio avviso ha perso appunto quella incisività che aveva in fase offensiva, quel ritmo indiavolato, forsegnato, che infatti ci domandavamo come facesse a tenerlo poi, con dovuto rispetto, ovviamente senza poter polimizzare, viene fuori il caso Palopino. Palopino, quindi se l'Atlanta comunque, l'ho visto a Gasperini quest'anno l'ho un po', per virgolette, snaturata, a quello che per 3-4 anni invece l'ha martellati come critiche alcistici. E penso sempre che comunque a me faceva più paura l'Empoli che l'Atlanta, perché l'Empoli, squadra organizzata, si chiudeva bene in difesa, ripartiva in modo omicidiale e che purtroppo così ci hanno fatto il momentario 1-1 con Bandinelli. Io penso che l'Atlanta sia una squadra che possa essere fatta a misura della Roma. Lo dissi lo scorso anno alle entrambe le vigili delle incontri del Bergamasci e la Roma ha fatto il conto 6 punti, nonché anche quel di Bergamo addirittura con una largissima vittoria. Io sono fiducioso. L'unica cosa è che magari la Roma può inventire delle scorie della fatica di Coppa, però è anche vero che se fossero stati un punto più avanti della stagione, poteva essere più pesante quell'infinito di Coppa, però in questo momento della stagione forse aver messo altre a benzina e altro ritmo partita nelle gambe dei giocatori della Roma può essere più favorevole che non, proprio per quella, diciamo, quell'aspetto atletico che poi va sempre incitere sulle partite, specie come quella di domenica a mio avviso. Domenica sarà una partita, adesso al di fuori di chi vincerà o non vincerà, ricca di gol come in altre circostanze, Roma-Atlanta-Atlanta-Roma o stavolta sarà molto stringata di gol? Dipende, io penso che comunque in questa partita almeno dai due gol ci possono essere, dai due a quattro gol, come nella somma del risultato finale, dai due a quattro gol ci possono stare. La Roma può fare davvero male comunque Atlanta, ha quei quattro di davanti la Roma che con la difesa atlantina può insomma mettere davvero in difficoltà e mi riferisco a Zagnolo che è rientrato in campo devastante ieri veramente nella ripresa un uragano veramente all'olimpico e anche se in mezzo non l'aveva detto e poi ecco Di Bala, Di Bala che ha l'argento di addosso, fuori classe di livello assoluto e Penedigli comunque fa sempre la sua parte anche se viene ridicato e poi Abram, Abram può tornare al gol, è un attaccante che va molto sulla profondità, gioca molto bene anche sul fuorigioco, la difesa atlantina spesso applica questa diciamo trappola per gli attaccanti avversari ma magari se poi scatti proprio come faceva anche Pippo Inzaghi che era il maestro in questo, proprio su quella linea lì che poi ti tiene in gioco allora si dica Pippo che puoi far male, quindi dipende tutto da come l'approccio mentale della Roma a questa gara e confido che sia comunque un approccio mentale con tutti i più dovuti, i più criteri dell'appuntamento che richiede. Ma c'è da temere più l'Atalanta o la Roma? Cioè se io dovessi temere una defaianza temo più quelle della mia Roma storiche e ataviche o più magari un crollo dell'Atalanta? Io non voglio sembrare fazioso ma penso che il periodo peggiore della Roma nel suo momento di crisi, di mini crisi e così vogliamo dire tra Udine e Ludocorex l'abbia già passata. Due vittorie raccolte con l'Empoli e con l'Elficchi che erano fondamentali quindi ha doppiato Caporna per dirla in termini navali perché Caporna è sempre un po' visto come uno sparuazzo per i navigatori, la Roma l'ha doppiato, la nave non si è affondata e adesso ecco ha rispiegato le vele e sta riprendendo la giusta rossa e quindi anche con qualche numero di minacciosi all'orizzonte Aglias-Atalanta ma ormai comunque a mio avviso la nave dell'amiraglio Murigno è di nuovo ben rotta sui mari e naviga verso i luoghi dove deve navigare ed arrivare in porto. Gasperini con questo mix tra moderno e antico dove potrà portare questa Atalanta? Mi spiego meglio perché qualcuno mi ha detto perché è antico? Perché la marcatura ad uomo che usa, che utilizza Gasperini viene dall'antico calcio quindi l'antico calcio non è tutto da gettare al cestino dei rifiuti perché a me risulta che l'Atalanta con la marcatura a uomo ha chiuso tante falle che con la marcatura zona escono come luce al sole. Sì ma infatti io sono anche allenatore di calcio giovanile, sai che ho vinto anche un campionato allievi provinciali quindi io non mi sono mai irrigitito su una regola pista in base anche agli avversari ma in base anche ai momenti della partita e ai momenti che attraversa una squadra si può come dire per fare una battuta dargli di tacco e dargli di punta un po' come la sua assunta. Quindi ci sono dei momenti che la partita può richiedere una marcatura zona all'altro a uomo. Comunque non è da denigrare una marcatura a uomo soprattutto sui calci di assaggio oppure in momenti dove tu sai che puoi creare problemi andando ad asfiziare quegli elementi della squadra avversaria con marcature e anche raggiunti di marcatura cosiché da limitare i flussi di gioco dell'avversario. Io lo faccio, vado al sole, non guardo tanto allo spettacolo, vado al sole, senza troppi fronzo e senza troppi parletti, non uso il fioretto, uso la sciampola. La sciampola ti chiede la marcatura all'uomo. Alberto, adesso in qualità di allenatore, però vorrei che tu spiegassi una situazione magari a chi è profano come allenatore. Insistere con i piccoli passaggi, cosiddetti in gergo passaggi all'interno della tua area di rigore per proporre l'azione di attacco. Quando tu hai gli avversari che ti fanno pressing fino a dentro la tua area di rigore, non è meglio il metodo classico del portiere che rimbia lungo e magari c'è il centravanti che la spizza come si dice in gergo a destra o sinistra per qualche compagno? Ma dipende. Bisogna sempre vedere gli uomini che hai a disposizione. Perché infatti Mourinho aveva chiesto, continuava a chiedere, giocatori anche che dal basso sapessero ben costruire l'azione. Proprio per ovviare a questo. Perché il lancio lungo fa una lunga regalare. Non sempre magari comunque la cerravanti anche se è forte l'impegamento, bravo può poter fare tutto quanto. Quindi anche correndo qualche rischio, ma deve essere un rischio comunque sempre calcolato. E' proprio per fare, come dire, il manovare della palla sulle tre quattro di campo, sulle tre quattro di campo, serve appunto per stannare gli avversari e poi comunque colpire con ripartenze fulmini. La 90 ha questa caratteristica che ha, scusa, caratteristica che comunque poi ti devi raffreddare che la Roma deve essere abita a spargliare la palla velocemente tanto con di gambe di gioco o con di frenzioni molto rapide per la terra, andando soprattutto con le quattro di sede in verticale e così si porta a far sì che la davanza sopra, con uomini come ripeto, Pedrini, Libala, Zagnolo, Abram, lo stesso Selic, e a me Selic comunque piace molto, mi piace come essendo di pace. Sì, 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 concordo. Sì, allora lì puoi veramente portare poi minacce serie alla porta di busso, ossia il portiere olomico. Sempre come allenatore, è positivo ricostruire l'azione dall'interno della tua area di rigore, mi spiego meglio. Cioè il portiere la passa al primo compagno, che la passa al secondo, vengono avanti, poi se c'è un attaccante la ripassa indietro al portiere, che la ripassa all'altro e poi finalmente si snoda l'azione. Cioè, o fai questo tipo di gioco a velocità supersonica, perché se lo fai camminando, tu dai possibilità all'avversario di coprirsi e non succede nulla. Esatto, dipende dall'avversario che puoi fare. Sempre devi poi ovviamente calare il vestito tattico della partita su misura per te, devi essere bravo in quello. Dipende se l'avversario vuole fare. Se l'avversario sta lì a tende, allora ovviamente devi, devi tu alzare il paricentro, devi tu alzare il ritmo e devi tu, insomma, far sì che l'avversario vada a desorientarsi, soprattutto con chi sta in avanti, non stando punti fermi statici di sul posto, ma cambiando in continuazione le marcature, le posizioni piccole chiede a non dare punti di riferimento. Con frateggi anche parla a terra, ma sempre si continua a tromparli in appoggio, perché deve essere un gioco proprio verso in velocità, uno o due tocchi, uno o due tocchi, ma per far sì che ciò venga devi comunque avere un'armonia di movimento talmente proprio sincronizzato che non so se la Roma ancora ha raggiunto quei livelli attratti li fa, ma a volte invece no. Io adesso non voglio aprire una polemica con un vecchio allenatore che abbiamo avuto, che come uomo ha fatto quello che ha fatto, ma comunque come allenatore a livello tattico sta facendo vedere molto bene il fatto suo. io mi riferisco a Napoli, Napoli da Spalletti ha dato questa parola che ti dico con continui schiambi croci a terra in verticale, continui movimenti dei giocatori avanzati che si stanno ripetendo ripetutamente nella posizione e portano a visualizzare. Guarda anche i gol che ha fatto, con la storia che ha fatto qui a Roma con l'altra scuola del Tevere, nella fonda del Tevere, sono esempi palesi di quanto ti sto dicendo. Certo, hai citato Spalletti come allenatore, poi è chiaro che Spalletti forse è tornato nel momento più infelice possibile perché c'era anche Francesco Totti che era arrivato alla fine della carriera, probabilmente, perché i fatti reali non li conosciamo, c'era della ruggine della credine passata, per cui Spalletti ha infierito sul fatto che Totti aveva 40 anni, Totti non aveva compreso che a 40 anni stava piano piano uscendo fuori dal gioco, è anche vero che Spalletti non l'ha utilizzato quando Totti stava in piena forma e a 40 anni poteva ancora dimostrare la validità sul campo. Insomma, lì sbagliò la società perché se era tornato Spalletti forse l'altro doveva uscire o se rimaneva Francesco Totti, Spalletti non sarebbe dovuto tornare. Però ormai con i ma non si fa più nulla, no? Per me la versione più credibile è che Spalletti comunque al secondo anno, sia suo corrispondente all'ultimo di Totti, aveva avuto input dalla stanza di Bottoni che doveva fare in modo che si è Totti, insomma, andasse a fuori. Sì, anche perché poi nelle segrete stanze a fine febbraio Spalletti aveva annunciato alla società che non avrebbe rinnovato, quindi tu ti potevi tenere Francesco Totti per un altro anno e non fargli fare la forzata volontà di addio dal terreno di gioco, perché poi fosse stato un altro se ne sarebbe andata a giocare in Canada, insomma, eh, partiamoci chiaro. Esatto, esatto, in America o a Dubai dove si ricoprono di metro in dollari, di milioni di euro, però ormai quella è storia che mi è andata a Manazzi. Sì, 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 di fatto. Io ho fatto l'esempio del Napoli, ma potremmo portarti, ad esempio, del Bayern Mono di Neversman, perché tu l'hai visto anche il mercoledì in centro, anche il Barcelona, proprio adottando simili, diciamo, provvedimenti, per virgolette tattici, e gli ha fatto, come dire, girare adesso, il 2-0 è anche più troppo bugiardo. Vero, sì, sì, confermo, è vero, corrisponde, concordo in pieno con le tue idee. Alberto Fiano, allora, noi te lo aspettiamo adesso al punto 400, no, sì, sono arrivato pure io, scusami, al punto 395, tu calcola che siamo in onda dalle 13.40, e questa volta, oltre questa alla Roma, c'è stato il momento dell'attualità con la protezione civile, perché quello che è successo nelle Marche è a dir poco disastroso. Noi, veramente, un messaggio, è una preghiera di solidarietà e forzoglio a tutta l'attualità delle Marche. di poi post bellissimi, in realtà, ci sono stato con mia moglie per l'estate, quindi veramente il nostro più grande in bocca al lupo. E abbiamo convogliato poi le trasmissioni sul fatto dei soccorsi, che secondo noi, mostro un modesto avviso, sono state ben organizzate e ben orchestrate. Poi ci sono stati degli interventi, la colpa è di quello, è una tragedia che si sarebbe potuta evitare, io dico che questo lo vediamo in seconda battuta. La speranza, non la certezza, è che alla fine, se veramente sarebbe potuta essere evitata questa tragedia, le responsabilità non ricadano sul cielo e sulla terra, e nessuno degli esseri umani paga le conseguenze e le responsabilità presunte. Questo purtroppo siamo in Italia, però quello che abbiamo visto da stanotte, poi soprattutto, è qualcosa di spaventoso, perché lì ti puoi chiamare come ti chiami, se quella valanga d'acqua ti prende, ti risucchia e ti saluto. Finisce il viaggio terreno, praticamente. E adesso stiamo attendendo notizie sugli ultimi due dispersi, che sembrerebbero essere due ragazzi di 14 anni che non si trovano. Speriamo che alla fine si possano trovare incolumi o parzialmente feriti, insomma, vivi. Non si sa bene ancora quante persone potrebbero essere, anzi usiamo il condizionale, sotto il mare di fango e di detriti. Speriamo che non ci sia più nessuno. Comunque i morti accertati potrebbero, mi dicono, salire a nove, che non va assolutamente bene, soprattutto se la tragedia poteva essere evitata. Però aspettiamo i prossimi giorni, siamo vicini anche ai parenti delle vittime, perché non si può morire così. E soprattutto che, visto che il clima è cambiato, chi sia il politico sia, mestierante di politica, chiunque sia, ma se ci sono dei fondi da destinare contro le calamità naturali, siano utilizzati per quel fine là, per quello scopo là. E soprattutto che tutti i partiti, dico tutti, quindi nessuno escluso, quando ci sono situazioni di questo genere, si devono unire tutti. Non puoi fare il bello, il cattivo, è colpa tua, non è colpa tua, tu hai difeso quello, tu hai difeso quell'altro. È un costume italiano bruttissimo che si dovrebbe evitare nei momenti di emergenza e necessità. No, ma io credo, era ancora medio emo, ancora la lotta tra i feudi. Purtroppo, come ti ho detto, sono cose giustissime che dovrebbe essere la normalità. Ma, con il dovuto rispetto e con tanto rammarico nel cuore, in Italia, purtroppo ora, se non è, diciamo, la sentiamo quasi, l'utopia, in tal senso ancora. E quindi, questo è una cosa veramente che amareggia e che fa male, insomma. Sì, e poi sul rovescio della moneta abbiamo ancora situazioni ad Amatrice e in Abruzzo che ci sarebbero, mi dicono di usare il condizionare lo uso, per carità, il direttore si raccomanda, della gente che vive ancora nei containers, ma i terremoti di Amatrice dell'Abruzzo sono anni che sono passati, fino a prova del contrario. Ad Amatrice, mi ricordo, sei anni, sei anni. Sì, sì, sì. Roberto, io mi ricordo che nel 2013, se la moneta non mi inganna, o nel 2015, insomma, un anno o due anni prima della catastrofe di Amatrice, appunto, di cui stiamo parlando, in Giappone, in Giappone, a circa 300 km da Tokyo, una cittadina di circa 400-500 mila abitanti fu quasi la salsuota un elemento sismico veramente di assurda potenza e forza. Ecco, in un anno, in un anno, la nazione del Giappone ha non solo ricostruito questa città, ma la resa ancora più bella, più funzionale, più, come dire, preparata ad eventuali altri fenomeni sismici per far fronte al meglio e per farciare partite e ciò che era accaduto non si ripetesse più. Esattamente in 13 mesi, un anno, 13 mesi. E adesso, ancora, non è stato in Giappone, per dirti no, in Giappone, quindi, è volere sempre potere e il pesce, purtroppo, in ogni contesto di vita, ma non solo politico, in ogni contesto di vita, puzza sempre dalla testa. Vero. E questo, c'è poco da fare. Purtroppo, è così. Allora, Alberto, grazie di essere intervenuto, abbiamo avuto anche un angolo di attualità che non guasta mai e praticamente, allora, dopo Roma-Atalanta aspettiamo il punto 395 e poi la prossima settimana, se tu sarai disponibile con i tuoi impegni professionali, non parleremo di calcio, ma di attualità, in quanto è l'antivigilia delle elezioni politiche che ci saranno il 25 settembre. Se sono disponibile, mi mando un messaggio, Roberto. Come hai fatto oggi? Né più né meno. Ok. Ok. Un saluto a Rosaria, un saluto a te e un saluto particolare, quello me lo devi concedere perché è stata una mia radioascoltatrice per tanto e tanto tempo ed essere riconosciuti dalla voce, sinceramente, ma fulminato quel giorno, a mamma Giuliana. Grazie. Perché è stata sempre veramente affettuosa e particolare e poi, ti ripeto, anche di Rosi, grazie di cuore. Dall'altra parte, magari non si avverte, ma sentirsi dire ma io ti conosco, la voce tua è quella, sei te. Oddio, che ho fatto? Arrendo, mi alzo le mani. Fa piacere radiofonicamente, televisivamente, no, perché la gente ti vede, ma radiofonicamente essere riconosciuti dal timbro vocale non è da tutti i giorni, insomma. eh no, eh no, anche perché comunque è un complimento che ho là e il tuo timbro di voce è confondibile e sempre bello. Ecco, ci proviamo, dopo 240 anni la voce è rimasta integra, ringraziando il cielo, non si è rovinata. Un grande abbraccio, Alberto Fiano, ci risentiamo prossimamente, buon fine settimana. Alberto, a te famiglia un carissimo saluto, un grande saluto anche agli interconnisti in ascolta sotto il tuo staff radiofonico, ovviamente chiudiamo come chiude il punto sulla Roma, ritornando alle sfere cacistiche, da Ieroma Daie. Da Ieroma Daie. Io ringrazio i 163, le 163 persone che ci hanno ascoltato in diretta, ne abbiamo avuto una da Moncalieri, provincia di Torino se non vado errato, un'altra da San Pierniceto che è in provincia di Messina, vediamo un po' nel grafico, Roma, vabbè, chiaramente è normale questo, abbiamo avuto anche a Piombino che è provincia di Livorno, queste sono le tre extra time che abbiamo avuto oltre la città di Roma e noi di questo siamo contenti perché vuol dire che ci ascoltano anche da altre parti, è giusto che sia così, il web non ha confini. Ciao Alberto, grazie e buona serata. A te, ciao Roberto, grazie tante, ciao. Ciao, 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 grazie.